Diceva un filosofo che la violenza umana è strumentale. Gli esseri umani certo possono fare violenza coi pugni, con le unghie, coi morsi, coi calci, però da quando hanno inventato le tecniche le hanno applicate alla guerra. Da quando c'è stata la guerra, nel senso più pieno del termine, è stata combattuta anche con le armi, che sono tra le tecnologie più importanti che l'umanità ha prodotto. Ha detto un altro pensatore che la guerra si fa sempre con le tecnologie più avanzate a disposizione e spesso la guerra è il laboratorio per tecnologie che andranno poi anche applicate in tempo di pace. Questa è una considerazione che chiunque si occupi di tecnologia deve tenere presente. E cosa c'entra la poesia con la guerra? C'entra molto di più di quanto si possa pensare. Perché quando è nata la poesia, almeno quando è nata la poesia occidentale, si è dedicata subito ai conflitti. Il primo grande genere poetico, l'epopea, parlava di eroi e di combattenti e di combattimenti. E' proprio nell'Iliade di Omero che troviamo una prima narrazione molto dettagliata, molto precisa delle tecnologie di guerra. Siamo al canto diciottesimo dell'Iliade. Achille, della cui ira canta il poeta, ha deciso di tornare a combattere dopo che Ettore ha ucciso il suo amico Patroclo. E allora la madre di Achille, Teti, vola da Efesto, dal dio artigiano, dal dio tecnologo, a far fare le armi più potenti a suo figlio per salvarlo da una morte che comunque sa essere certa. E noi sentiamo Efesto che fabbrica uno scudo, uno scudo meraviglioso, accuratissimo, pieno di immagini. E poi sentiamo Efesto che fabbrica un elmo, che fabbrica altri pezzi di armi di difesa, perché portare le armi migliori era il segno degli eroi. Sentiremo poi due grandi poeti del ragnascimento e del barocco italiano, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Nell'Orlando Furioso Ariosto parla dell'archibugio, dell'arrivo delle armi da fuoco. Armi definiti vili perché cambiano tutta la guerra, perché tolgono molta della forza degli eroi che stavano nelle spade, negli archi, eccetera, e rendono chi è armato di archibugio pari a un combattente di ben maggiore valore. Ariosto parla malissimo dell'archibugio e alla fine ci rappresenta Orlando che distrugge fisicamente questo abominoso ordigno, come lo chiama. Però l'esperienza ci dice che le armi, come tutte le tecnologie, non si possono disinventare. Una volta entrate nella vita umana ci rimangono. Poi sentiremo Torquato Tasso che ci parla di una guerra più antica della prima crociata e però ci parla di una guerra fatta tra macchine da guerra, in questo caso torri di legno che si confrontano. Ed è già una guerra per molti versi moderna, anche se queste macchine sembrano antiche. Infine avremo due grandi poeti del Novecento italiano che si confrontano con quella catastrofe umana che è stata la prima guerra mondiale. Giuseppe Ungaretti ci racconta nella sua poesia l'esperienza fisica, sensoriale del partecipare alla guerra, mentre Clemente Rebora in un frammento brevissimo, Clemente Rebora non è famosissimo come poeta ma era un grande poeta, in un frammento brevissimo il rumore e il dolore del combattimento. Per questo ai tuoi ginocchi vengo ora, se tu per il mio figlio che poco viver deve foggiarmi se mi volessi uno scudo ed un crinito elmetto, fimbriati schinieri ed usbergo, che il suo l'hanno i troiani predato al suo fido compagno, ed egli a terra sta disteso rodendosi il cuore. E a lei così rispose l'artefice sommo ambidestro. sta di buon animo e più non t'affannino questi pensieri, così lungi potessi tenerlo, nascosto alla morte, abominata, quando lo giunga il suo fiero destino, come egli avrà belle armi che ognuno fra i tanti mortali potrà restare senza stupor, come le abbia vedute. Detto così la lasciò e ai mantici fece ritorno. I mantici erano venti, soffiavano dentro i crogioli fuori sbirando soffi gagliardi, più forti e più leni, ora per secondare la fretta di festo, ora lagio, come volea l'ambidestro, per compiere appunto il lavoro. Poscia nel fuoco gittò l'indomido bronzo, lo stagno e l'oro prezioso, l'argento gittò sovra il topo quindi, piantò l'incudine grande e il possente martellone, nell'una mano strinse con l'altra, impugnò le tenaglie. Ed uno scudo prima di tutto fè grande e massiccio, che tutto istoriò gittandovi un orlo d'intorno, triplice, luccicante, freggiato era il balteo d'argento. Aveva cinque strati lo scudo ed Efesto sovra esso avea molti lavori condotti con fine artificio. Poi l'ambidestro all'orlo estremo del solido scudo, attorno, attorno, finse la possa d'oceano grande. E poi che ebbe costrutto lo scudo grande e robusto, l'usbergo costruì, più lucente del raggio del fuoco, l'elmetto costruì, ben saldo, aderente alle tempie, istoriato, bello, l'ornò con un aureo cimiero. Infine costruì gli schienieri d'agevole stagno, poiché ebbe tutte le armi costrutte, l'insignia ambidestro le prese e dalla madre d'Achille dinanzi le pose. Ed ella si lanciò dalle cime nevose d'Olimpo come sparviere, l'armi recando fulgenti d'Efesto. D'una in un'altra via si leva ratto di vista al paladin, ma indugia poco, che torna con nuove armi, che s'ha fatto portare intanto il cavo ferro e il fuoco. E dietro un canto postosi di piatto l'attende, come il cacciatore all'oco, coi cani armati e con lo spiedo attende il fier cinghial, che il ruinoso scende, che spezza i rami e fa cadere i sassi, e ovunque drizzi l'orgogliosa fronte, sembra a tanto rumor che si fracassi la selva intorno e che si svella il monte. Stacci mosto alla posta, a ciò non passi senza parargli il figlio l'audace conte, tosto cappare allo spiraglio tocca col fuoco il ferro e quel subito scocca. Dietro lampeggia a guisa di baleno, dinnanzi scoppia e manda in aria il tuono. Triemano le mura e sotto i piedi il terreno, il ciel rimbomba al paventoso suono. L'ardente strano che spezza e venir meno fa ciò che incontra e dà a nessun perdono, sigla e streghe. Non volse porre ad altra cosa mano, fra tante e tante guadagnate spoglie, se non a quel tormento che abbian detto al fulmine assimile in ogni effetto. L'intenzione non già perché lo toglie fu per voglia di usarlo in sua difesa, che sempre atto stimò d'animo molle, gir con vantaggio in qualsivoglia impresa, ma per gittarlo in parte, onde non volle, che mai potesse ad uomo più fare offesa. E la volve e le palle e tutto il resto seco portò, che apparteneva a questo. E così, poiché fuori della marea, nel più profondo mar si vide uscito, sì che segno lontano si vedea del destro piume del sinistro lito, lo tolse e disse A ciò più non istea mai cavalier per te d'esser ardito, né quanto il buono val mai più si vanti il rio per te valer, qui giù rimanti, o maledetto, o abominoso ordigno che fabbricato nel tartareo fondo, fosti per man di Belzebù maligno che ruinar per te disegnò il mondo all'inferno, onde uscisti ti rasignò. Così dicendo, lo gittò in profondo. Il vento intanto le gonfiate vele spinge alla via dell'isola crudele. Or, mentre la città s'appreste prega, le genti e l'arme il più buglion di spiega, trage egli fuor l'esercito pedone, con molta provvidenza e con bell'arte, e contro il muro che a salir dispone, obliquamente in due lati il comparte. Le baliste per dritto in mezzo pone e gli altri ordigni orribili di Marte, onde in guisa di fulmine si lancia per le merlate cime, or sassi, or lancia. E mette in guardia i cavalieri defanti da tergo e manda intorno i corridori, dà il segno poi della battaglia. E tanti i sagittari sono, e i frombatori, e l'arme delle macchine volanti che scemano fra i merli difensori. Altri v'è morto, e loco altri abbandona. Gianna infolta del muro e la corona. La gente franca e impetuosa e ratta allorquanto più puote affretta i passi, e parte scudo a scudo, insieme adatta. E di quelli un coperchio al capo fassi, e parte sotto macchine sappiatta che fa il riparo al gradinar dei sassi. Ed arrivando al fosso, il cupo e il vano cercano impirne ed adeguarlo al piano. Goffredo intanto, con nuovo assalto, i difensori opprime. Aveva condotto ad una porta accanto delle macchine sue la più sublime. questa è torre di legno e serge tanto che può del muro pareggiare le cime. Torre che grave d'uomini ed armata mobile e su le rote e viene tirata. Viene aventando le volubi il mole, lance e quadrella e quanto più s'accosta e come nave in guerra nave suole tenta ad unirsi e le muraglie opposta. Ma chi lei guarda ed impedir ciò vuole l'urta la fronte e l'una e l'altra costa la respinge con l'aste e le percote or con le pietre merli ed or le rote. Tante di qua tanti di là furmossi e sassi e dardi coscuronne il cielo surtar due nembi in aria e là tornossi talor respinto onde partiva il telo come di fronte sono i rami scossi dalla pioggia indurata in freddo gelo e ne caggiano un po' un matur così cadeano i saracini dai muri però che scende in lor più greve il danno che di sero assai meno erano guarniti parte dei vivi ancora in fuga vanno della gran mole al fulminar smarre assisto la notte violentata l'aria è crivellata come una trina dalle schioppettate degli uomini ritratti nelle trincee come le lumache di un loro guscio mi pare che un affannato nubolo di scalpellini batta il lastrecato di pietra di lava delle mie strade e io l'ascolti non vedendo in donna di veglia in mane ferve e di macchine suona e di monete l'uman contrasto mentre in disparte l'umiltà dei vinti gemme abbiamo sentito in queste poesie il rumore il furore il dolore della guerra da tempi molto antichi e da armi molto antiche a tempi molto recenti dallo scudo omerico o dall'archibugio dal primo antico archibugio di Ariosto per arrivare poi allo sgranarsi delle mitragliatrici e delle altre armi della prima guerra mondiale raccontate da Ungaretti e abbiamo sentito una parola precisa abbiamo udito questa esperienza perché è stata qualcosa che solo la poesia in realtà ci può raccontare così chiaramente perché il suono è della poesia come della musica e qualcosa che solo la poesia ci può raccontare così chiaramente perché l'esperienza è parte della poesia la prossima volta noi sentiremo delle altre esperienze per fortuna più tranquille più quotidiane che spesso finiamo con non notare neanche e nelle quali la tecnologia è dentro il nostro vivere vorrei ricordare che gli attori erano Linda Messer-Klinger e Ivano Dionisio che le riprese sono state effettuate da Francesca Vallauri Riccardo Gelatti e Alessio Serra che la post-produzione è stata effettuata da Francesca Vallauri Riccardo Gelatti e Giulia Di Marco Riccardo Gelatti Riccardo Gelatti